Non mutare il tuo talento, fratellino. Se si tratta della mia vita, faccio quello che mi pare. E ora sei un tassinaro qualsiasi, in un cesso di città. Un signor nessuno. E che io non ricordo più chi sono. Che vuol dire non ricordo? Siamo qui, siamo ora, siamo quello che possiamo, quello che ci riesce meglio. Secondo lei, c'è davvero un'altra vita, un'altra occasione? Ti prego, sono il tuo nome. Sergio. Io sono Antonia. Ci rivedremo, vero?